5 gennaio 1984, ore 22, lo scrittore, giornalista e sceneggiatore Giuseppe Fava viene ucciso da 5 proiettili alla nuca. A sparare è la mafia. Un anno prima con l'inchiesta i 4 cavalieri della focalisse mafiosa aveva denunciato i collegamenti fra 4 importanti imprenditori catanesi e il clan di Nitto Santa Paola. La mafia non è più un problema soltanto siciliano ma è una tragedia che sta insanguinando tutta l'Italia e tutta l'Europa a tutti i livelli anche a livello di vertici. Nel 1998 il processo Orsa Maggiore si concluderà con la condanna di Nitto Santa Paola all'ergastolo come mandante dell'omicidio.